Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo sarà un nuovo video riguardante tutti i miei prodotti preferiti ma con prezzo piccolissimo, ossia inferiore a 3 euro ho già pubblicato un video del genere proprio due settimane fa, ho visto che vi è piaciuto davvero tantissimo quindi ho deciso di replicarne e farne uno nuovo per parlarvi un po' degli altri prodotti che adoro e che sono davvero low cost prima di iniziare col video volevo farvi vedere che stasera sono appena tornata dal lavoro, infatti per rilassarmi ho creato qui un po' un'ambientazione soft e ho acceso la mia nuovissima My Jolie Candle, questa è alla profumazione pinacolada come il famosissimo cocktail è buonissima, la sto praticamente bruciando da due giorni e devo dirvi che è davvero fantastica il profumo si sente tantissimo e la sto letteralmente adorando ha questa illustrazione bellissima qui sul davanti e come vedete la confezione esterna riprende moltissimo colore del packaging esterno della candela come in ogni My Jolie Candle ho trovato all'interno un gioiellino in questo caso è un braccialetto con svaroschi davvero molto carino vi lascio come sempre qui in sovraimpressione il mio codice sconto che potete utilizzare tranquillamente sul sito ufficiale My Jolie Candle creata quindi questa rilassante ambientazione iniziamo con il vero e proprio video per prima cosa come prodotto top che sto adorando in questo periodo ma comunque utilizzo questi gel mani da più o meno due anni e mi piacciono tantissimo sono appunto i Love and Hand Cleansing Gel della Mercy Handy ne ho provati davvero tantissimi ora è la volta di questo alla profumazione Sherry Sherry è davvero buonissimo io adoro i gel mani di Mercy Handy perché come vedete sono davvero piccolissimi entrano in borsetta li porto sempre con me soprattutto quando sono fuori per lavoro perché magari nei bagni manca il sapone o se voglio igienizzare le mani prima di mangiare sono comodissimi molto profumati e soprattutto fanno benissimo il loro lavoro li potete trovare da Sephora e sul sito ufficiale di Mercy Handy date un'occhiata perché veramente è un prodotto fantastico e ha anche degli ingredienti ottimi il prezzo dovrebbe essere sui 2,89€ e 2,99€ la confezione nonostante sia così piccolina dura davvero tantissimo perché occorre davvero pochissimo prodotto per igienizzare tutte le mani secondo prodotto con cui mi sto trovando davvero egregiamente ma penso che già l'avete un po' intuito dagli ultimi video sul canale è questo nuovo deodorante della Siennetur in particolare adesso ho questo al fiordaliso bio ma anche con quello al timo mi sono trovata davvero molto bene hanno un prezzo ridicolo tipo vengono 1,19€ contengono 75ml di prodotto hanno un pao di 6 mesi e come potete vedere sono dei veri e propri deodoranti spray ragazzi io li sto adorando certo non sono fantastici al 100% come dei deodoranti normali perché essendo comunque privi sali d'alluminio bisogna sempre dopo 5-6 ore riapplicarli per me davvero sono state una bellissima scoperta e non mi aspettavo che questo prodotto così economico e soprattutto dall'inci ottimo durasse anche un bel po' nel tempo anzi fatemi sapere anche voi nei commenti se avete provato già questi deodoranti e se vi siete trovate bene o meno vi parlo poi ancora di due prodotti Siennet questi sono nello specifico le due acque profumate che potete trovare tra l'assortimento permanente Siennet quindi insieme a tutti i cosmetici che secondo me durano di più durano tantissimo e hanno un buon profumo sono nello specifico l'acqua profumata zucchero a velo che contiene 150 ml di prodotto a un pao di 36 mesi e questa acqua profumata è il dupe dell'acqua profumata zucchero a velo di Acquolina e poi mi è piaciuta anche tanto l'acqua profumata more muschio anche questa 150 ml di prodotto pao 36 mesi dovrebbero avere un costo di 2,99 euro l'una o anche un pochettino meno e fra tutte vi ripeto sono quelle più buone che hanno proprio una profumazione che io personalmente gradisco tantissimo soprattutto perché sono entrambe molto dolci forse questo è lo zucchero a velo come potete intuire è fra le due la più dolce mentre questa more muschio ha un giusto compromesso tra dolcezza e freschezza del muschio mi piacciono perché appunto hanno un buon odore ma soprattutto perché durano davvero tantissimo sulla mia pelle o sui vestiti stanno su circa 5-6 ore si sentono molto e devo dirvi che le uso soprattutto l'estate quando non voglio un profumo troppo persistente o comunque troppo pesante passiamo poi ad un prodottino di essence anche questo davvero molto economico dovrebbe venire circa 3 euro e sono le Pure Skin Essence Pure Fing Nose Strips detto fra noi sono praticamente questi cerottini che vanno messi qui sul naso per eliminare le schifezze o comunque i micropunti neri e da quando hanno cambiato la formula vedete New Formula devo dirvi che hanno un inci ottimo e che io li utilizzo davvero tantissimo questi cartoncini in cui all'interno appunto c'è questo cerottino che è bagnato va applicato sul naso deve rimanere in posa 10-15 minuti e vedrete che quando si stacca dal nostro naso porterà via tutte le schifezze e tutti i piccoli punti neri il profumo devo dirvi che è abbastanza persistente di geranio si sente molto ma a me personalmente piace tantissimo so che molte ragazze non lo gradiscono ma ecco io non ho alcun problema con la profumazione di questo prodotto mi sono trovata quindi davvero molto bene ogni volta che termino i cerottini vado sempre a riacquistarli comunque vale davvero la pena provarli perché hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo ancora di Sien voglio consigliarvi assolutamente il body butter della Sien Nature questo praticamente è la crema corpo che ora è entrata anche in collezione permanente per fortuna alle fave di tonka e al burro di karité è sia idratante che nutriente è praticamente una crema corpo vedete molto molto burrosa molto consistente e adatta soprattutto alle pelli secche io la adoro da utilizzare l'inverno quando comunque noto che ho la pelle delle gambe e delle braccia molto secca e poi mi piace anche il fatto che ha un profumo buonissimo è leggero ma allo stesso tempo dolce è abbastanza persistente non impiega tantissimo ad asciugarsi ad assorbirsi anche se un pochettino di massaggio bisogna sempre farlo quando viene applicato sulla pelle sono sincera ne basta davvero pochissima per ogni applicazione e con questa confezione che contiene 200 ml di prodotto credo che possa essere utilizzata benissimo in un anno un anno e mezzo naturalmente come tutti i prodotti si è Nature ha un inci ottimo ed è certificata Nature l'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi in questo video è il temperino come potete vedere di Essence cercavo assolutamente un temperino non tanto per i matitoni grandi perché ne ho già un bel po' ma per le matite quelle piccoline quindi qualche anno fa ho deciso di provare quello di Essence in quanto viene 1 euro 1 euro e 50 massimo e mi sono trovata nell'espositore e l'ho acquistato devo dirvi che è fantastico infatti sono andata ad acquistarne anche un altro è molto comodo perché comunque come vedete qui sopra ha anche un tappino che si apre facilmente e vedete ci sono praticamente tutti i residui delle matite io l'ho appena utilizzato ragazzi è fantastico ha un rapporto qualità prezzo ottimo non rovina le matite fa una bella punta non le fa spezzare secondo me vale assolutamente la pena provarlo ed è a livello di tantissimi altri temperini anche molto più costosi comunque ragazzi con questo è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollicento di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao grazie a tutti ciao